Una città di 10 milioni di abitanti è pronta a dare il via ai giochi della diciottesima olimpiade. Con la nazione giapponese tutto il mondo attende l'imminente inizio di una competizione certamente la più vasta e pure pacifica fra quelle che si svolgono sulla terra e che ha per teatro gli stadi e le arene e per obiettivo la conquista dell'alloro olimpico. Il 10 ottobre si apriranno i giochi. 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 Il 10 ottobre.